Cari colleghi, cari studentesse, cari studenti, come sapete nella notte tra sabato e domenica il Governo ha varato un nuovo provvedimento che individua una zona, chiamiamola arancione, in cui sono contenuti molto i movimenti delle persone solo per estrema necessità legata a esigenze lavorative o di salute. Questa zona a partire da Lombardia è considerata una serie di province intorno a Lombardia e tocca alcune province del nostro Piemonte, in particolare anche la provincia di Alessandria dove c'è una nostra sede. Rimangono escluse la provincia di Torino, la provincia di Cuneo e quella di Biella dove abbiamo tre nostre sedi. Ciò nonostante il Politecnico ha intrapreso e porterà a compimento questa settimana un percorso che ci porterà ad avere il massimo di digitalizzazione delle proprie funzioni, delle proprie missioni. Venendo qua al Politecnico questa mattina ero in ovvia ansia perché stamattina partono le lezioni online e quando ho ricevuto un messaggio dai miei tecnici che il sistema che avevano con grande fatica messo a punto nella scorsa settimana e ancora tutto questo weekend reggeva e che 75 corsi in parallelo con migliaia di studenti collegati potevano essere erogati, beh ho provato un'emozione che vi garantisco mi rimarrà tutta la vita. I grazie anche agli studenti del nostro Consiglio d'amministrazione sono stati un momento prezioso per me. Ovviamente ci sarà qualcosa che non funzionerà, lo metteremo a posto in questa settimana in cui Torino gode ancora di questa relativa possibilità di muoversi e di entrare al Politecnico perché si può migliorare ancora e sicuramente miglioreremo ancora, daremo tutta una serie di indicazioni nel caso in cui qualcosa non funzioni per comunque continuare a regolare le lezioni ma digitalizzeremo tutto quello che è digitalizzabile. Prima di tutto per preservare il nostro personale sia il tecnico amministrativo sia quello docente. Spingeremo al massimo possibile lo smart working, il lavoro agile, il lavoro da casa e per quelle funzioni essenziali per poter mantenere aperta l'università anche in forma digitale che sono quelle della sicurezza, quelle delle tecnologie dell'informazione, quella della guardiania e anche quella di cui mi sto servendo adesso, quella della comunicazione faremo in modo che ci siano in presenza il minimo di persone indispensabili divise in squadre di lavoro in modo tale che sia operativa magari una settimana una squadra e poi si succeda un'altra squadra. Questo semplicemente per preservare l'Ateneo dal rischio che di fronte a un'eventuale infezione alla necessità di porre in quarantena delle persone si possa comunque garantire il servizio digitale. Questi sono piccoli accorgimenti che metteremo in campo a partire già da questa settimana. Per quanto riguarda i docenti cercheremo di far sì che loro, anche delle loro civili abitazioni se lo vorranno, possano erogare didattica online. In particolare il provider dei nostri servizi diciamo in rete telefonica ci ha garantito e raccomando tutti quelli che hanno ricevuto questa offerta di accettarla di arrivare fino a 100 gigabyte al mese di traffico possibile. Questo dovrebbe garantire assieme a un collegamento 4G la possibilità di erogare tutte le lezioni anche da casa purché si abbiano dei mezzi sufficientemente veloci. Sia per i docenti che per i tecnici e amministrativi che dovessero operare in smart working da casa cercheremo di fare il possibile attraverso acquisti mirati che faremo questa settimana per rendere le loro postazioni adeguate. Io credo anche che i docenti che lo volessero potranno portare dietro un permesso accordato una postazione di lavoro dall'ufficio alla propria civile abitazione tutto questo sempre nell'ottica di ridurre il movimento delle persone inutile e quindi avere in fondo cura di noi stessi, cura dei nostri parenti. Sappiamo bene che questa malattia, questa infezione è particolarmente pericolosa per le persone anziane, io vi confesso, io stesso ho una mamma che ha 80 anni ma ci siamo organizzati in famiglia per evitare un contatto e così va fatto, così stanno facendo tante famiglie e così sta facendo anche il Politecnico al suo interno come avete sentito. Internamente stiamo passando tutti i tipi di riunioni anche quelli degli organi di governo con provvedimenti che prenderò questa settimana i consigli di dipartimento, i consigli di corso di studi in versione telematica grazie ai sistemi che abbiamo a disposizione e abbiamo così valentemente testato. Dobbiamo per coloro che frequentano il Politecnico mantenere quei presidi sanitari che sono suggeriti lavarsi spesso le mani, non toccarsi occhi, bocca o naso e mantenere una distanza interpersonale di un metro e a questo abbiamo chiesto si adeguassero i bar e anche la mensa che oggi avrà con un incremento del personale dedicato sia un'attenzione a che le persone entrino con una certa distanza sia che queste si seggano all'interno della mensa rispettando la distanza raccomandata. Oltre alle sale studio rimane chiusa da questa settimana anche la biblioteca con la quale si potrà interagire ma solamente per corrispondenza prenotando un libro con spedizioni mirate ma non più in presenza. In sostanza questa sarà una settimana in cui predisporremo tutti i decreti raccomanderemo il massimo di procedure possibile perché il Politecnico che è il tempio dello sviluppo delle tecnologie digitali diventi esso stesso digitali grazie al valore del proprio personale docente, tecnico e amministrativo che ringrazio da profondo del cuore.